Racconto d'arte, nuova puntata, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con l'approfondimento della storia dell'arte italiana ma anche del panorama internazionale. Quest'oggi varchiamo i confini del nostro paese e ci spostiamo in Olanda per parlare di Vincent Willem Van Gogh. Nato a Zundert il 30 marzo del 1853 e morto a Duvers-Usois il 29 luglio del 1890. E' stato come detto un pittore olandese, autore di quasi 900 dipinti, più di 1000 disegni, senza contare i numerosi schizzi, non portati a termine, i tantissimi appunti. Destinati probabilmente all'imitazione di disegni artistici di provenienza giapponese. Tanto geniale quanto incompreso, se non addirittura disprezzato in vita, Van Gogh influenzò l'arte dei contemporanei e dei secoli. A seguire in particolare la corrente espressionista da Henry Matisse a Edvard Munch, parliamo anche di Kirchner, di Schill, di Echel e di Nold. Iniziò a disegnare da bambino, nonostante le critiche del padre, che era un pastore protestante che gli impartiva delle norme severe, continuò ad interessarsi all'arte finché non decise di diventare un pittore vero e proprio. Iniziò a dipingere all'età di 27 anni, realizzando moltissime delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni di vita. I suoi soggetti spaziavano in vari ambiti, consistevano in autoritratti, in paesaggi, nature morte di fiori, in dipinti con cipressi, in rappresentazioni di campi di grano e girasoli. La sua formazione comunque si deve all'esempio del realismo paesaggistico dei pittori di Barbizon e del messaggio etico e sociale di Jean-François Millet. Dopo diversi anni di sofferenze, patendo anche di frequenti disturbi mentali, morì in circostanze misteriose alla sola età di 37 anni, nel 1890. In ogni caso, la fama artistica delle sue opere verrà riconosciuta soltanto dopo la sua morte. L'opera che abbiamo scelto quest'oggi di approfondire insieme a voi è Campo di grano con cipressi. Parliamo di una delle opere dipinte durante il suo ultimo anno di vita, quindi siamo nel 1889, e si tratta di un olio su tela che misura 73 x 93,4 cm. Attualmente si trova esposto al Metropolitan Museum di New York. Veniamo adesso alla descrizione di questo dipinto, perché parliamo della raffigurazione di un grande cipresso, dipinto sulla destra di un campo coperto da grano maturo. Sul terreno ci sono molti arbusti, dei rami ricchi di foglie che circondano il suo tronco, e poi sulla sinistra vi è un ulivo dalle foglie color argento che si alza tra gli steli. Infine il vento scuote le fronde e trascina le nuvole, creando dei vortici in cielo, come potete ben vedere alle mie spalle. Dalle conversazioni pistolari tra l'artista e il fratello Theo furono intense e frequenti, come sappiamo, e il pittore era molto legato al fratello, con il quale poteva soprattutto parlare di arte, raccontare le sue giornate, le relazioni che stringeva con gli abitanti dei luoghi dove si trovava. Ecco, secondo il giudizio di Van Gogh, il dipinto che ora si trova alla National Gallery è il migliore tra quelli realizzati in quel periodo. Infatti sono note tre varianti della stessa composizione, come detto appunto uno è custodito al Metropolitan Museum di New York e uno alla National Gallery, mentre uno presso il Museo di Van Gogh di Amsterdam. Ovviamente quello che c'è da dire è che questo dipinto è stato realizzato quando lui aveva all'incirca 36 anni, ricordiamo che è morto in circostanze sospette all'età di 37, quindi un anno dopo, e lui rimase per un anno presso l'ospedale di Saint-Rémy, ricoverato a causa del suo malessere psicologico. Ecco, durante questo soggiorno Van Gogh, a partire da giugno del 1889, continuò a dipingere le scene, ciò che vedeva della campagna provenzale circostante. Gli alberi che più attiravano la sua attenzione erano proprio gli olivi e i cipressi. Come era solito fare, il pittore olandese scrive di questa sua esperienza, ancora una volta, a suo fratello Teo il 10 luglio del 1889. Ecco, l'ultimo dipinto realizzato rappresentava proprio alcuni cipressi accompagnati dal grano maturo punteggiato di papaveri. La scena è coronata da un cielo intensamente azzurro e qui Vincent con queste parole descrive quest'opera al fratello. O una tela di cipressi con qualche sfiga di grano, papaveri, il cielo azzurro, che come un plaid scozzese di tanti colori è impastato come un monticelli. Sono queste le parole che utilizza Van Gogh per spiegare questa sua opera al fratello, per fargliela immaginare, mentre si trova appunto in ospedale ricoverato. Ecco, questo paesaggio mostra dunque lo stile tipico dell'ultimo periodo dell'artista. Infatti il cielo è costituito con ampie pennellate materiche con andamento a spirale. Gli stessi vortici aerei, la figura del cipresso fiammeggiante, si ritrovano anche in un'altra opera che abbiamo già analizzato insieme, che è Notte Stellata. E tratti più brevi invece creano il tessuto delle chiome degli alberi, del grano, e la linea delle montagne invece è segnata con una pennellata spessa e continua che ne rafforza il profilo contro il cielo. Ecco, lo stesso, la stessa tipologia di tecnica viene utilizzata anche in montagna a Saint-Rémy. Come detto è un impasto di colori ad olio applicati su tela e in questo paesaggio colorato con colori saturi e brillanti emerge proprio il centro del colore giallo del campo di grano maturo. In primo piano a destra vi è una macchia di vegetazione di colore verde chiaro come la fascia che costeggia il campo in secondo piano e invece come di consueto nei dipinti di Van Gogh la chioma del cipresso è di un colore verde molto scuro, mentre il cielo è occupato quasi interamente da cumuli di nuvole dipinte a tratti di azzurro, celeste e blu che si alternano. Il paesaggio è illuminato da una luce calda e intensa, non si notano ombre proiette dal suolo, quindi la scena ritrae la natura illuminata del sole di mezzogiorno, infatti quando il sole si trova allo zenith i suoi raggi colpiscono in maniera perpendicolare il terreno e le ombre si creano proprio ai piedi delle figure che si trovano esposte al sole. Per quanto riguarda lo spazio il paesaggio rappresenta i suoi elementi principali quasi tutti sullo stesso piano, quindi abbiamo gli alberi, cespugli e le fila di nuvole basse. Ecco e questa fascia spaziale è anticipata in avanti nella parte anteriore dalla vasta distesa di grano maturo e l'organizzazione dello spazio dunque in profondità basata sulle fasce di paesaggio che si sovrappongono tra loro. Infine per quanto riguarda la composizione, l'inquadratura c'è da dire che è ovviamente un dipinto di forma rettangolare orientato in maniera orizzontale, la cui inquadratura incornice il campo con un ampio spazio di cielo che valorizza quello che è il giallo dorato tipico del grano maturo. Nella metà inferiore infine prevalgono le linee leggermente inclinate verso l'alto a destra dei campi. Invece il cielo è animato da linee curve che si avvolgono su tutta la larghezza dell'opera proprio a creare questo vortice delle nuvole, dunque la sensazione di movimento dettata dal vento. Era questo l'ultimo dettaglio di quest'opera di Van Gogh, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Racconto d'Arte. Grazie per la visione!